C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora vedo io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. E buonasera al pubblico di Vivere la Vita, allora riprendiamo oggi la carrellata dedicata agli antichi mestieri del centro Abruzzo, e parliamo di quello del pittore edile, quindi non il pittore che dipinge, a che fare con l'arte, ma torniamo al campo dell'edilizia e intervistiamo Pasquale Gianmarco. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, siamo di fronte a chi con il pennello fa un'arte, che non è quella della pittura in tal senso, ma è quella del dipingere, del riverniciare i muri, ripristinare. Da tantissimi anni, dal 72 sappiamo, poi ci fu un'interruzione, quindi insomma è quasi un maestro in tal senso. No, non provo un maestro, però mi arrancio, mi arrancio abbastanza bene. Com'è nata questa passione? Più per esigenze che passione, poi naturalmente una volta avviato come attività si prosegue, si prosegue imparando sempre giorno per giorno, perché non sempre il lavoro è medesimo, quindi trovando le difficoltà acquisisci sempre l'esperienza. Beh, nasce, ci diceva lei, da un'esigenza che a volte è quella domestica, quindi un lavoro da fare a casa, oppure lavoro da fare a casa di amici parenti, qualsiasi esigenza, e lì l'uomo impara, cioè a volte il lavoro bisogna impararlo, bisogna imparare a fare tante cose. Bisogna sempre imparare, al giorno d'oggi si impara giorno per giorno qualsiasi cosa che adesso si fa. Però certamente ci vuole, credo, un metodo, un format, uno stile, un firrugge per dipingere. C'è stata qualche figura, no? Che l'ha accompagnata, la sostenuta? Si impara sempre chi è meglio di te, all'inizio, poi man mano si prende esperienza con il tuo seguito degli anni. Si imparano le nuove tecniche, man mano che escono, si porta avanti il lavoro che, come si vede qui, ti prospetto, in queste pareti. Benissimo, e c'è stata una figura, no? Che magari sarà predominante nella sua vita, dove lei ha appreso questo mestiere? Allora, non è che c'è stata una figura, ho appreso da diverse persone le tecniche, poi ho proseguito con altri che avevano altre tecniche e ho acquisito man mano l'esperienza di queste tecniche di cui lavorano. Che lei ha osservato, coloro che poi militavano. E poi ho chiedendo anche spiegazioni perché facevano in questo modo o meno perché si faceva questo tipo di lavoro qui. Certo, certo. Sicuramente è un lavoro, come sappiamo, che richiede costanza, metodo, assiduità, perché non si può iniziare una riparazione del muro, verniciare oggi e poi lasciare domani. Quindi c'è una tabella di marcia, no? Delle indicazioni da rispettare. C'è sempre una tabella di marcia nel senso che tu, quando inizi un lavoro, sai dove ti devi fermare e dove devi iniziare. Quanto tempo ci vuole per il fatto delle essiccazioni, delle vernici e il tipo di vernici, come si devono trattare. Questo è il nostro lavoro. Poi naturalmente si troveranno degli intoppi man mano che ci si lavora, quindi si prende rimedio su quell'intoppo che ci si trova nel tipo di lavorazione che si sta facendo. Ma diciamo che in quel momento è come se la mente del lavoro deve diventare come una casa, perché bisogna dedicarsi solo a quello, no? Sì, è logico. Bisogna dedicarsi solo a quello, altrimenti non si va avanti. Ecco, più o meno il tempo di questa operazione, di questo lavoro, del verniciare, di riparare le pareti, insomma, dipende poi dal lavoro che si deve fare, dalla tipologia. Dalla tipologia di lavoro che si deve fare, dal tempo se è asciutto e umido, quindi ti comporta a tempo differente, poi il riscontro tra il muro e la vernice, quello che succede, e lì ti comporta altro tipo di tempo. Quindi le riparazioni che si devono fare o meno, questo è il tipo di lavoro. Quindi mi pare di capire che ci sono molteplici fattori da prendere in considerazione. Uno dei tanti è anche le condizioni atmosferiche, quindi perché non si può svolgere questo lavoro con qualsiasi previsione meteorologica. In inferno è sconsigliabile, anche perché ci si mette il doppio o il trivolo del tempo senza poter avere un guadagno, perché se andiamo sul guadagno l'inverno è sconsigliabile, mentre d'estate si cammina molto di più perché il tempo di asciugatura della vernice è maggiore, è più veloce, quindi il contrasto tra prima e seconda o terza mano è più celere. Diciamo che lei è andata un po' a risucchiare le abilità, le competenze, le esperienze sul campo di tante personalità, di tanti maestri, per poi diventare anche autonomo in questo campo e portare avanti tantissime riparazioni, tantissime lavori che vanno avanti anche oggi. Per fortuna che vanno avanti anche oggi, altrimenti saremo tutti a casa. Però chi fa questo lavoro come vive? Perché è chiaro che una riparazione è sempre un lavoro sporadico, forse te lo devi un po' cercare, no? Di questi tempi. Allora, si deve cercare, però una volta che sei conosciuto ti cercheranno, se tu lavori bene in questo campo ti cercheranno perché ti farai un nome, se non lavori male, una volta arrivato alla fine del cerchio hai smesso di lavorare. Diciamo che bisogna farsi credito perché questo non è un posto fisso, diciamo, poi si può fare... Se lavori bene, seguiti a lavorare, se lavori male... Si può fare una riparazione al mese, come se ne possono fare 10, 100, dipende anzitutto dalle richieste degli utenti, però anche, come diceva lei, dall'impegno e soprattutto da come poi il lavoro viene portato a compimento. Il termine, è giusto, se lo porti al termine abbastanza bene, si sparge la voce, io vengo a fare un lavoro a casa tua e vedi che il lavoro è fatto bene, quando un'altra persona ti chiederà chi te l'ha fatto, tu dirai il mio nome, quindi da te parte un nome, o un'altra persona, poi da lei se mi chiamerà partirà per un'altra persona, quindi si allargerà il cerchio. Ovviamente poi nei paesi, ma anche in città c'è questo passaparola, chi posso contattare, chi posso chiamare per farmi poi fare questo lavoro in casa, ecco che lì se una persona guadagna credito, guadagna professionalità, a quel punto avrà maggiori occasioni per esercitare il lavoro. Certo c'è sempre un patema d'animo perché non sono tempi facili e perché il lavoro ci può essere come non ci può essere. Adesso è sceso, è di molto pure, prima negli anni 80-90 il lavoro c'era e ce n'era abbastanza, adesso invece si va ritrovando quel piccolo lavoro che c'è per poter andare avanti, altrimenti. Però è chiaro che poi nell'operazione pratica di riverniciare le pareti, i muri, non si può essere dilettanti allo sbaraglio, cioè non si può improvvisare nulla, esiste una tecnica, come si fa? No, non è che ci sono diverse tecniche, quelle le devi approntare alla tipologia di lavoro che ti troverai davanti, quindi non posso dirti una tecnica, ci sono diverse tecniche, quindi adesso non si può dire quale tipo di tecnica è, perché se non ho un tipo di lavoro ho una tecnica, un altro tipo di lavoro ce ne ha un'altra, quindi non è quello una tecnica, diverse tecniche, questo è. Sicuramente qualche esempio però si può fare, no? Allora, in queste parti qui, dei muri, abbiamo messo il cartongesso per poter riparare i muri che erano un po' sfaldati, poi li abbiamo stuccato, verniciato e si vede il risultato. Se non sapevi come metterci le mani stavi ancora qui a lavorare. Bisogna poi conoscere anche lo status dell'ambiente, il materiale. Devi usare tutto, se non conosci questo non puoi andare avanti. Certo, poi ci vuole, diciamo, una solita cavetta in tal senso, fare tanta tanta esperienza. Lei, sono tantissimi anni, no? Ci dicevi. Sono abbastanza anni, io ho iniziato da ragazzo, poi ho smesso perché ero entrato in fabbrica, però nel frattempo facevo sempre questo lavoro. Adesso sono qui in questa tabbaccheria che dovrà aprire fra poco, la settimana prossima forse. Spero di aver fatto un buon lavoro. Certo, perché poi... No, ci sarà una pubblicità maggiore, chi verrà all'inaugurazione, chi entrerà qui a prendere sigarette o meno. Beh, diciamo che questo lavoro comporta come tante professioni una responsabilità forse anche maggiore perché si lascia l'impronta, cioè si lascia il segno del lavoro che poi viene profuso. Chi entrerà qui, io parlo di questo locale adesso perché stiamo facendo questo esempio, diciamo. Chi entrerà qui vedrà il lavoro, se è fatto bene o male, ci saranno critiche sicuramente, però anche abbastanza logico perché il lavoro per me, per me stesso, è fatto abbastanza bene. Tocchiamo il tasto dolente prima di salutarci con il signor Gianmarco che ovviamente lo vediamo di nuovo all'opera, quindi vuol dire che il lavoro va avanti, grazie a Dio di questi tempi non è poco. Il ricambio è generazionale, cioè i giovani si avvicinano a questo tipo di lavoro, di riverniciare. Credo che forse una distanza, una difficoltà c'è. I giovani vogliono avvicinare, però la prima cosa che chiedono è quanto mi dai. Questo già è un pietro sbagliato per entrare in questo mondo di lavoro. In questo mondo di lavoro tu devi prima imparare e poi poter... Chi ti dà lavoro vedrà la valutazione per il prezzo che ti pagherà come giornata. Se non lavori, non sai lavorare, non sai apprendere, non andrò avanti. Forse un tempo era anche l'inverso, si pagava per apprendere, investire sul campo e poi riportare e mettere in pratica le competenze. Quindi c'è questa fretta di voler guadagnare. Subito il guadagno, vanno guardando subito il guadagno. Prima il guadagno, poi c'è il poi. Mentre il poi è il guadagno, non il prima. Quindi le giovani consiglia prima di imparare il mestiere, quindi magari affiancarsi una personalità e poi lanciarsi, no? Sì, chi ti dà lavoro, ti dà la valutazione del guadagno che effettivamente potrei avere, non prima. Se c'è una valutazione visibile, non ci sarà guadagno per chi dovrà avviarsi nel mondo di questo lavoro. Diciamo una fretta, quello di poi cercare di avere un minimo di indipendenza economica dettata anche dal contesto sociale, perché è chiaro che per i giovani non sono tempi facili, come di per sé per tutti. Quindi c'è una spinta, c'è una sollecitazione che arriva anche dall'attualità, dal momento attuale. Non so se con questo lavoro si può vivere. Bisogna poi saperci fare, no? Bisogna saperci fare. Vivere ci si vive, però bisogna lottare. Si combatte, diciamo. Si combatte perché ce ne sono molti che si mettono in campo senza avere tecnico, avere esperienza o meno. Basta che sporcano i muri, perché ci sono pittori, chi sa sporcare i muri e chi è giotto, chi sa rifinire. Io ho questa linea qui. Ci sono poi delle categorie, beh è chiaro, chiaro. Diciamo forse la prima fase è quella di sporcare i muri per arrivare poi a un lavoro più accurato, perché quando noi cominciamo a lavorare abbiamo bisogno di tempo. Sporchiamo i muri, però chi sporca i muri già si crede il Padre Eterno. Questo è sbagliato. Questo sì. Comunque grazie signor Pasquale Gianmarco perché ci ha aiutato a addentrarci in una tipologia di mestiere che non abbiamo mai trattato. A lei invece tanti auguri perché insomma questo lavoro va davanti ancora. Speriamo, perché al mondo d'oggi, anzi, oggi come oggi è un po' dura. Va bene, grazie Pasquale Gianmarco, grazie al nostro pubblico e ovviamente l'appuntamento con la nostra rubrica di Antichi Mestiere per la prossima settimana su Onda TV. Buona serata e viva la vita. C'è chi un giorno invece ha sofferto E allora ha detto io parto Ma dove vado se parto Sempre ammesso che parto E ha grigia la vita E la vita l'è vera, l'è vera Fa stare l'ombrea, l'ombrea Ti ripara la testa Sempre un giorno di festa Ciao!